buongiorno buongiorno non ve l'aspettavate questo bel ingresso a metà giornata ma tuttavia c'è la necessità di aggiornare anche perché finalmente mi posso emozionare per una carta ma vado che bene già mi accusano di fare sensazionalismo per il freddo perché per il caldo c'è chi lo fa in abbondanza ma comunque niente di tutto questo adesso cercheremo di affrontare insieme un po il discorso relativo al periodo natalizio anche quello che lo precede i prossimi giorni invece saranno sono già abbastanza chiari perché c'è un'evoluzione ancora ballerina da capire quello che può accadere proprio a partire dal 22 poi in particolare nei giorni proprio del 25 26 anzi per 22 23 24 e poi proprio 25 26 perché guardate qua bufera notte di natale questa è l'emissione ultima del modello americano dopo quella deludente di stamattina e che in sostanza come più volte annunciato e si capiva anche dall'ensembra carte dai tentativi di prova inserisce una massiccia eruzione fredda sebbene non completamente centrata nel mediterraneo nel senso che abbastanza rapida nel poi concludersi e sfilare verso essa ma proprio il giorno della vigilia e soprattutto la notte tra la vigilia e natale guardate qui e mi sposo da quale parte mi sposo da questa perché guardate che cosa inserisce queste sono le tempi le temperature alla quota di e lo dice anche lì vedete 1390 1400 questa è proprio una carta che riporta le temperature in aria libera con le anche le con le iso ipse del dove collocata la pressione geopotenziale anzi di 850 ecto pascal va beh insomma la pressione la temperatura alla quota grosso modo di 1300 1500 metri cioè in aria libera fuori dalle influenze del suolo e guardate qualcosa riporta questa è proprio la notte di natale la mezzanotte meno 6 meno 5 quella è la quota neve conseguente perché 100 200 metri se fosse se si realizzasse questa carta perché ora vedremo quali probabilità e lo scritto qua vedete quali probabilità ci sono realmente che avvenga questa questo tipo di peggioramento con un minimo che scende lungo la penisola alimentato da aria proventa appunto da oltre il circolo polare artico e guardate come svetta questo meno a 40 perché poco più a nord qui per ragioni diciamo grafiche non l'ho potuto inserire che addirittura entra la notte di natale secondo questa emissione che mi diverto a commentare ripeto poi ora valuteremo le probabilità una meno 40 a 500 ecto pascal cioè che con questi valori di pressione diciamo in questa configurazione è collocata intorno 5200 5300 metri di quota meno 40 è un valore che raramente molto raramente si vede in italia infatti probabilmente non arriverà ma comunque in alto adriaco con queste condizioni io ho messo queste quote ma diciamo nelle regioni l'aperino centrale settentrionale con rovesci può arrivare tranquillamente al a livello del mare anzi la neve con queste temperature che rappresentate da questa emissione è un impulso artico in cui il freddo è presente soprattutto in quota ma poi c'è anche il grecale che fa entrare questi valori meno 5 meno 6 che sono anche molto freddi nei bassi strati e poi tutto questo scende giù proprio il giorno di natale al sud è una classica evoluzione da bufera passeggero una diciamo una frustata artica molto pesante in queste con queste condizioni che ci sarebbe proprio il giorno di natale questo per farvi capire quanto sia ancora l'incertezza previsionale e quanto il mostro anticiclonico paventato sia ancora tutto da definire che poi nel periodo nei prossimi dieci giorni la tendenza ad avere spanciamenti dell'alta pressione azzurriana sia presente questo è un dato reale cioè qui non vi sto dicendo che vi arriverà ripeto come ieri le vacanze sarà il nuovo buran del 1996 tutte le vacanze nel gelo no c'è la possibilità adesso vedremo perché che ci possono essere delle ondulazioni del getto con arrivo di irruzioni artiche ma nella sua complessità anche rispetto alle previsioni precedenti il getto in atlantico sta o meglio il vortice polare abbastanza compatto in parte secondo me anche per un riscaldamento che che sta avvenendo nel media bassa troposfera ma comunque in troposfera abbiamo un vortice polare abbastanza che si compatta e che spinge molto il getto polare a e schiaccia l'alta pressione che è costretta spesso quella della zorra a spingersi verso di noi nonostante i massimi pressori siano in atlantico ora vi spiego tutto intanto vedete se avete vista guardate queste proprio per la notte di natale ultima emissione modello americano fatica vediamo adesso andiamo a vedere che cosa sta accadendo innanzitutto guardiamocela bene questa forse non l'ho aggiornata vediamo un po eccola ecco qua vedere si è ripulito e ora c'è questo stau cioè venti da nord est che la quota neve è ancora piuttosto altina ma si abbasserà nelle prossime ore e potrebbe arrivare fino a quote collinari qua sull'appennino con questi rovesci nevosi generati dal proprio dal stau cioè dalla diciamo della dall'umidità che va a impattare i rilievi che salendo di quota condensa e genera precipitazione un classico le classiche precipitazioni appunto da impatto con catena montuosa però vediamo adesso che cosa accade l'ambello eccolo qui guardate la grande alta pressione questa è la depressione attuale questo è il modello americano vedete l'alta pressione si impadrisce soprattutto nel nord ma poi subito dopo trasla con i massimi in atlantico eccolo 1050 questo è un passo fondamentale vedete questa struttura allora il punto qual è questa alta pressione rimane qui questa 1050 e ci fa scendere questa roba violetta che abbiamo qui o tende comunque allungarsi di nuovo verso l'italia questo è il grande dubbio in questa emissione riesce il vortice polare a entrare vedete come fa guardate ora ve lo faccio vedere vi sposto ecco guardate che succede guardate come scende come scende verso eccolo guardate qualche roba proprio la notte di natale questa notte di natale è qualcosa di rapido vedete come torna poi l'ondulazione il promontore di alta pressione tende a tornare verso di noi ma questo passaggio è fondamentale se avvenisse però al momento circostanziato e poi torna alta pressione ma non dura perché poi c'è un'altra bassa pressione che arriva poi per il periodo che sarebbe a fine anno e vi voglio far vedere ancora questo guardate qui cosa succederebbe se si verificasse ve lo faccio vedere riducendo ecco qui il tutto guardate qua eccola qua guardate cosa entra vedete queste linee questa è una meno 35 meno 30 meno 40 un nocciolo gelido di impressionante potenza eccolo qua l'ultima l'ultima missione questa la mattina di natale una meno 40 entra nel adriatico settentrionale qui la meno 35 che si possessa di due terzi dell'italia sono valori in quota quasi eccezionali nel senso che non capita molto frequentemente soprattutto nella prima parte dicembre che arrivino questi valori nelle regioni italiane ma allora questi sono gli spaghetti li andiamo a discutere di là ma allora qual è la verità cioè che cosa succederà diciamo che questa emissione abbastanza estrema così come lo era quella di stamattina che ci piazzava sopra un bell'anticiclone molto probabilmente si andrà verso una via di mezzo vi faccio vedere perché e che cos'è che che vi voglio dire questa è la mitica carta che abbiamo usato da bellissima ce la conserviamo guardate qua questa qui è anzi meglio Milano meglio due carte uguali questa è l'emissione di stamattina del modello questo è europeo guardate l'ufficiale com'era sopra media rispetto alla linea bianca che è la media che comunque sopra la media trentennale questo è il modello americano stamattina invece ci riporta in media e guardate l'ufficiale com'era guardate stamattina completamente sballata fuori media analogamente quella di adesso a questo picco negativo che esce un po dalla media ma quindi qual è la verità forse nessuna delle due la linea bianca secondo il modello americano dovrebbe essere la realtà e quindi la diciamo l'ipotesi più probabile è una via di mezzo che faccio cambiare quindi la anziché ci sono tre possibilità l'anticiclone si impossesse tutta questa zona e i peggioramenti tutti al nord circolazione zonale freddo nord alta pressione calda su circolazione meridiana completa c'è lungo i lungo i meridiana appunto scende giù aria fredda dall'artico direttamente si impossessa completamente al mediterraneo l'alta pressione rimane confinata dietro la mia testa a sinistra in atlantico via di mezzo circolazione nord occidentale cioè da dove sono io scende giù verso verso sud est variabilità venti abbastanza sostenuti rovesci qualche nevicata di intransito potrebbe essere questa la soluzione però questa che vedete di altruismo è assolutamente contemplata con con un anticiclone di quella portata in atlantico basta una piccola ondurazione che lo sconto frattitale di cui ho parlato in precedenza ci butta addosso tutta questa roba e questa anzi ci prende di striscio se potrebbe essere anche ancora più centrata però e trovo perché facciamo un'informazione corretta questa questa forse non è la più probabile ma non è nemmeno l'anticiclone pia nel mostro ripeto probabilmente ci saranno delle ondulazioni un po meno marcate quindi transiti di perturbazioni proprio a partire dal 22 che abbastanza sfuggenti in un clima non particolarmente rigido in media forse leggermente sopra media o comunque che va diciamo in un range attorno alla media prima della perturbazione un po più caldo poi un po più freddo qualche rovescio probabilmente natale sarà questa una certa variabilità non anticiclonico ma intanto questa è l'ipotesi ufficiale del modello americano ultima emissione quindi noi adesso abbiamo abbiamo questa la vedremo come proseguirà e quindi e quindi mi metto a dire che ve lo dico bene non perdete i prossimi aggiornamenti sareste dei pazzi perché a questo punto la cosa si fa molto interessante tra l'altro il periodo deputato ad avere eventualmente questa questo peggioramento è proprio quello del 24 25 poi ne discuteremo dopo si affacciano delle ipotesi interessanti poi per il prossimo di gennaio perché il vortice polare viene visto dal modello europeo soprattutto molto in stratosfera in quota molto piuttosto debole debole addirittura c'è un'inversione dei venti zonali contemplate qualche in qualche tentativo di prova ma comunque diciamo che viene visto molto debole questo è un aspetto molto importante perché in assenza del condizionamento stratosferico la troposfera è si è dimostrata molto dinamica quindi anche questo compattamento attuale perché c'è non avrebbe seguito poi gennaio perché non è supportato dal condizionamento stratosferico cioè dal maglio stratosferico che in primo moto rotatore molto veloce anche sotto se già sotto si compatta poi alla fine finiremo con la famosa soglia oltre la quale un mese e mezzo di niente e ci giochiamo l'inverno ma tutto questo non sembra proprio esserci anzi sembrerebbe esserci il contrario nel senso un condizionamento di tipo caldo in stratosfera che vorrebbe dire poi inverno completamente aperto per due mesi insomma e allora sì che ci divertiremo insomma continuate a seguire iscrivetevi il momento merito al canale youtube il bonus grazie e me li sto meritando pure direi e abbonatevi a instagram e youtube perché tutti questi argomenti ne discuteremo in privato bene approfondendo tutto quello che possiamo anche qui ovviamente sono dettagliatissimo ma ripeto con 250 mila persone su instagram e 15 mila su youtube io non posso rispondere necessariamente a tutti quelli che intervengono ci provo e quindi per fare una discussione anche più approfondita bisogna creare dei circoli chiamate come volete con la chat whatsapp per esempio per abbonati riusciamo approfondire tutti questi argomenti un abbraccio a tutti siete tantissimi siete veramente fantastici anche quelli che criticano ma sì ma lasciamoli fare tanto poi alla fine non mi sembra che stiamo andando fuori dal seminato quindi va tutto bene seguite meteoscienza ciao 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 ciao